Questo italiano, Chico Forti, con l'aiuto della sua famiglia, di tanti amici, anche del nostro Ministero degli Esteri, spera di avere un altro processo. Quest'uomo è detenuto, condannato all'ergastolo a Miami. Pierangelo Maurizio. C'è chi regala un pensiero, un dono. I sostenitori di Chico Forti sotto l'albero hanno messo un pacchetto speciale, un video in cui chiedono giustizia per l'imprenditore italiano. Forti si avvia al tredicesimo anno rinchiuso nel carcere di massima sicurezza a Miami, condannato in via definitiva all'ergastolo per omicidio. Grazie anche al sostegno del Ministro degli Esteri Terzi, ora si sta predisponendo la richiesta di un nuovo processo, sulla base di nuovi elementi o di prove trascurate, per dimostrare la sua innocenza. È cominciata anche la raccolta fondi. La famiglia di Chico e Chico sono stati dissanguati già dal primo grado e dai vari appelli. A Chico sono state vendute tutte le proprietà, chiaramente dal carcere non può fare nessuna attività, non può lavorare. L'aiuto quindi di tutti noi credo che sia necessario nel momento in cui crediamo sulla sua innocenza. Occorrono soldi per gli avvocati americani, perché non sono come Roberta Bruzzone che lavora gratis. I soldi li vogliono prima e quindi aiutiamo Chico Forti, adesso che viene Natale. Quest'anno a chiedere un nuovo processo per Chico sono intervenuti in tanti. Da Fiorello a Giovanotti alla criminologa Roberta Bruzzone. Per cercare di riaprire un caso e per nuove indagini difensive, negli States servono almeno 250 mila dollari. Ogni mese, ogni giorno che Chico Forti passa in carcere è un giorno di un innocente che sta scontando una pena che non deve scontare. Sul caso di Chico Forti si sono mobilitati gente comune e personaggi famosi, all'opposto del silenzio di gran parte della carta stampata italiana e della totalità dell'informazione americana.